Aumentano i contagi in Italia. Nelle ultime 24 ore si contano infatti quasi 100.000 nuovi casi e 197 vittime e i dati Agenas mostrano un rialzo dei ricoveri in area medica in 14 regioni. Questo mentre ci avviciniamo alla data cruciale del 31 marzo, che segna la fine dello stato di emergenza e l'allentamento significativo delle restrizioni. L'OMS però avverte in Italia, come in altri paesi europei, le misure anti-covid si stanno abbandonando troppo brutalmente. Il nostro paese infatti, segnala, si colloca ancora fra i primi tre paesi in Europa per morti registrate e i casi continuano ad aumentare significativamente a causa della subvariante BA2 di Omicron. E anche il nostro ministro Speranza ribadisce l'invito alla prudenza. La pandemia non è finita, bisogna continuare a indossare la mascherina al chiuso, raccomanda il titolare della salute. A livello globale poi l'Organizzazione Mondiale della Sanità nell'ultimo report settimanale l'evidenza che dopo una consistente diminuzione da fine gennaio, per la seconda settimana consecutiva è aumentato il numero di nuovi casi con un più 7%. Sul fronte dei cessi si consolida invece un trend decrescente con un meno 23%. Sono dunque oltre 12 milioni i nuovi casi segnalati e poco meno di 33.000 i decessi.